amanti dello stealth siete nel posto giusto con l'uomo giusto soprattutto allora battute a parte sniper ghost warrior contracts 2 ennesimo capitolo della ben nota serie di sniping che dovrebbe portare il livello generale molto più su molto più su e io voglio vedere fin dove arriviamo allora il gioco da quello che ho avuto modo di vedere in prelancio brilla in particolar modo per la distanza da cui si può colpire con colpi fino a un chilometro quindi diciamo il paradiso dello sniping riuscirò a fare un colpo da un chilometro questa è la grande domanda a cui trovare risposta oggi quindi vamonos grazie a tutti per accettare questa commissione e benvenuti a Kuomar per i ultimi 20 anni è stato controllato da due persone Presidente Omar al-Bacca e sua esposa Bibi Rashida loro regime è tanto cruello e brutale ma non abbiamo visto il motivo di interferire fino adesso abbiamo un'acchiavante intel che Kuomar è planning un'offensive contro un Stato a una guerra qui non è inattivabile è un'attività è un'attività di distruttare la regione inflando le prezze globale il conflitto è stato trattato da l'assassinazione del Presidente al-Bacca sua esposa ha portato l'attività ma la sua sposa è forte alcuni nella sua governo presenta sia la sua giovane e l'educazione però è stata supportata da un'attività con un'attività di guerrotti che ci aiutano le truppe e l'attività a Rashida rinforzando la sua controlla e evitando la rivoluzione il regime è finanzato da un'acchiavante e un'acchiavante Lars Hellstrom voglia di molti agenzii ha trattato i governamenti, riguarda le elezioni e prende le corporazioni per ranzo insieme sono i mastermindi di questa offensiva abbiamo bisogno di prendere l'attività abbiamo anche un amico in-country Taj Tahir un giornalista e son di una di un'attività di un'attività politica che si è rinforzato dopo essere arrestati sull'attività di espionare trovare l'attività il territorio è sia un'attività e un'attività quindi potrezzare a un'attività non può essere possibile sappiamo che sei un'attività lunga quindi non potrebbe essere un problema il nuovo giro deve aiutare soprattutto il prototipo non temo nulla sono assolutamente pronto allora c'è una ricca storia a quanto pare che quindi noi cominciamo dal deserto grigio allora completa il tutorial ci vogliamo familiarizzare un minimo ormai vi faccio un po' di tagli ma almeno è tempo di familiarizzare con le due armi ecco io voglio andare a fare esattamente questo dunque il titolo ha una serie di dinamiche votate a realismo ma con no? un adattamento gioca senza stress no? troppo poco mette la valutabilità affronta meccaniche di tiro da cicchino accessibili nemici bilanciati sfide interessanti niente no beh tiratore scelto eh tiratore scelto non siamo proprio dei neofiti totali ma tiratore infallibile senza add eh lo lasciamo a chi è in grado di arrivare fino alla legione straniera ecco io non sono fra questi grazie Diamo un'occhiadina e poi vediamo Allora, il gioco è per PS4, io sto giocando su PS5, io ero compatibilità E tanta roba Aspetta Dunque Si marcano i bersagli Allarghiamo lo zoom Allora Ok, controllo Allora Noi siamo a 172 metri, quindi A ricordi logica Io devo mettere il mirino A 200 metri che è qua Ti ho bisogno di un testa? L'ho preso Allora, lui è a circa 300 metri Ho capito come funziona Si può anche adattare Settecento metri È tantissimo Fostro Compensazione del vento Vabbè ragazzi Vabbè ragazzi, sono pronto Sono pronto Allora Il cecchino Non è più un mistero Drone di controllo Allora Abbiamo anche la torretta Da vecchino telecomandata Allora Quali sono la torretta? Ce la posso far sparare da sola? 3, 2, 1 Allora Allora Direi che le basi L'abbiamo L'abbiamo Comprese Io vado Alla prima missione Non temo nulla Quindi C'è veramente Tanto su cui Sperimentare Tanto equipaggiamento E Si può personalizzare Tutto Con i soldi Che guadagneremo Ma ovviamente Adesso Non ci abbiamo Una lira Corto raggio E lungo raggio Caricatore Evoluzione Quindi anche Anche un sistema Di crescita Diciamo Del Personaggio Con strumenti vari Che hanno fatto Veramente Dei Degli enormi Passi avanti Rispetto al primo Contrax Ok Allora Provincia di Zinda Elimina 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 Sabota Sfide varie Collezionate Io Io Che cazzo Questa Eh Niente No Speduto 54 Mi costa soldi Che non ho L'arma secondaria Sarà nefico L'arco Ma in questo momento Costa troppo Arma da fianco No Andiamo Andiamo così Vado Vado E Tiratore scelto Perché mi piace Un po' più complicato I'm sure you know The record for the longest sniper kill Belongs to a Canadian Special Forces operator During the Iraq war He hit a target Over two miles away Today's mission Won't need you to hit Anything that far But it's still gonna be a challenge This operation Is designated Cold War Zero We're dropping you Onto a plateau Located within range Of all three targets Your window of opportunity Is small So hit And move The first target here Is Antoine Zaza Glashda's favourite Warlord And quartermaster The Zaza clan Are arms dealers Alongside other Criminal enterprises Eliminate him And the Kuomari government Will struggle to equip Their militias Your second target Is a disgraced SAS officer Captain Ronald Payne He's in charge Of the army's Tactical training And currently stationed At one of their boot camps Your third target Is Colonel Feodor Novikov A Russian GRU agent Sent here To control logistics And supply Removing these actors From the board Will seriously hamper Rashida's plans Stay sharp I'll be in contact When you arrive on site Allora Do you read This is Raven Roger Raven What's your status I've exited the helo And I'm commencing recon Of the plateau Intel indicates Light foot patrols And some forward Observation posts only Proceed with caution And you should reach The sniper hides With little opposition Understood The plateau Will provide you With three OPs Which overlook Each target location They should give you A good line of sight Allora vabbè Sounds like a piece of cake Except for the range And with no spotter I'm confident You won't miss It's one of the reasons We picked you No pressure then Let me know When you've reached The first OP Roger that Raven out Qua Non sembrerà Se c'è nessuno Io voglio vedere Un attimino la mappa Ehm Quindi Il primo è qua Vabbè Già so che accadrà Qualsiasi cosa E quindi Non me ne preoccupo Troppo Ah c'è qualcuno Uno E due Ehm Ehm Still looking Uno preso E questo Lo interroghiamo Il resto Il resto del patrol Onde sono Vanno Per uccidarti Non se uccidio I first Ok Allora Vabbè Ehm Molte tipologie Di nemici diversi Vabbè In questo momento Ci interessa poco Un colpo Per due nemici Forse sempre così Ehm Eccoci Qua Devo muovermi Molto lentamente E Non vi taglierò niente Perché voglio che possiate Vedere Questa fase qui Per intero I giochi Di sniving Sono molto belli Se uno ci entra Con la testa Ma Hanno dei ritmi Un po' Più bassi Che sono anche Apprezzabili Io Per quanto Non sia Magari Portatissimo Per lo stealth Però Mi hanno sempre Affascinato un bot Perché Ti obbligano A fare le cose Con calma Rispetto a un contesto In cui È tutto Corri Corri Spara Spara E non si ragiona Mai Ecco Questi sono i pochi giochi Che Ancora conservano Un'identità Un po' Più classica Però appunto In quanto Classici Magari possono Anche non piacere Il modo migliore Per farvi capire Se fanno a caso Vosso E mostrare Per intero Almeno io L'ho sempre Pensato E così Sarà solo Non avevo Non era silenziata Vero Non era silenziata Per l'appunto Ero convinto Che fosse silenziata Ma non lo era Poi dici Perché Falcon Non riesce A fare bene Le missioni stealth Perché Non mi accorgono Anche se c'è Il mirino Sì C'è il mirino Se c'è Il soppressore Allora Control This is Raven With a sit Rep Roger Raven Go ahead I'm heading For the OP Overlooking the port Good We just received Some fresh intel On Zaza He may be conducting A deal Today Our sources Tracked A known Weapons Supplier Crossing The border Earlier And heading On the main Road To that Location If we're Lucky You'll catch Them both Do you have Anything On the Suppliers ETA Negative But one Of the locals May have More info Look for a hostile Station near one Of the comms Relays Surely They've heard Chatter And probably Won't be asking Nicely How you do It's up to you And vorrei andare A prendere Questa pattuglia Che mi sta Cercando Ma porca Calma 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 N'è successo niente Non è successo niente Non è successo niente Abbiamo visto Bene E non era esattamente Quello Quello che immaginavo Ma va bene Qua Ah ma da qua Mi fa ripartire Allora Facciamo le cose Con molta calma Io li evito Dicamela Ordinare Il dottore Per eliminarli Anzi Allora La C'è un nemico Poi Stanno in copertura Non capisco Molta calma Con estrema calma Con estrema calma Allora Nessuno mi vedrà Nessuno mi vedrà Nessuno mi vedrà Interno Interno In anti uomo Esplosivi vari Stanno tutti Stanno tutti in In attesa del sottoscritto Stanno tornando quegli altri Allora Devo affrettarmi Un po' Fermo non te muove Mamma mia Tu bravo Che so Figliotite Stanno tornando ma Non mi sentiranno Non mi sentiranno Allora Ok Allora Punto di viaggio rapido Sbloccato E fin qui Potrebbe Beccare almeno Uno dei grossi bersagli Carissimo Mamma mia Allora Arrivati a questo punto Dunque 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 Dove sta L'amico Oh Allora Signor Sta un chilometro Due Sta Non change Capito Dove Devo 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 aspettare Che il tipo Si stabilizzi Perché quasi un chilometro e due non è che sia proprio semplicissimo ecco se tu facessi almeno un chilometro e cento io avrei la visuale quantomeno netta poi se ti fermassi tutta una super passeggiata meno di un chilometro e cento sì ma io non lo posso fare in movimento non sono abbastanza bravo non c'è vento l'unica cosa buona ce l'avrà un amico questo per fare due chiacchiere con qualcuno prima o poi è dura qua è dura non mi sento sicuro del colpo non mi sento sicuro arca misera non mi sento sicuro del colpo lo devo fare adesso ora mai più no non mi sento sicuro non si può fare non si può fare ce la faccio troppa ansia non si può fare non si può fare però lo devo fare però lo devo fare almeno che cammina in linea retta sta a far contapassi ora o mai più ora o mai più mi sa che questa l'ho presa mi sa che questa l'ho presa mi sa che questa l'ho presa malissimo malissimo l'ho preso secco signori arrivederci guardate con l'estrazione e arrivaci mi cercano allora allora io però allora via via allora ci sono? no quindi diciamo che ti dà un momento di no ok quindi è tosto è tosto mentirete però è devo dire intrigante 28.000 cosi non si capisce che moneta sia 28.000 cosi per ottenere adesso di 34 e 39 ecco che vedete là quindi ragazzi gioco bello tostarello però potremmo anche approfondire qualora lo vogliate in diretta di questi giorni fatemi sapere io intanto appunto ci teniamo a farvi vedere il gioco e qualsiasi approfondimento lo possiamo fare qualora lo vogliate voi per cui ragazzi miei fatemi sapere se lo state provando come lo trovate e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.